e bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video con la nostra serie inedita in italia su i football oggi siamo qui come potete ben vedere con il bologna prima di iniziare l'episodio volevo innanzitutto chiedervi di mettere like a questo video di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete più alcun video di questa magnifica serie e poi nulla volevo farvi un paio di premesse perché il bologna su questo gioco non c'è cioè almeno non ha le licenze ecco quindi ho dovuto scegliere la squadra che la rappresenta anche se non è lo stesso ufficiale le magliette ufficiali senza chiaramente non ha le licenze non c'è neanche l'allenatore reale o semi ailovic ho selezionato allegri vabbè fate fin da che non c'è invece i giocatori sono i reali accostati al bologna partendo dalla porta in porta vabbè il polacco Skorupski non si muoverà ottimo portiere in difesa Somaoro Bonifazi e Caldara a sinistra Cambiaso che sembra che però abbia trovato un accordo con la Juve ma è comunque un giocatore che è stato accostato al bologna ho comunque deciso di inserirlo a destra De Silvestri un nostro capitano a centrocampo Toriano e Dominguez già del bologna e Torsby in attacco un attacco che sinceramente mi piace molto 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 con un giovane ossia gnonto molto forte e un giocatore di esperienza ossia Ilicic secondo me questa squadra può veramente fare cose importanti non solo nelle episodi di oggi ma anche in campionato mi stuzzica tantissimo ora vabbè andrò a fare la partita e vi mostrerò direttamente gli highlights magari vi mostro solo gli highlights le azioni più belle appunto della partita gioco l'evento questo qui dove ci sono molte squadre che si possono affrontare a livello professionista è un... ho preso delle mazzate assurde a questo livello però voglio provare perché non potrei... voglio provare con il bordeaux che in teoria mi sa che è andato in serie C francese vabbè ci vediamo direttamente in campo con le azioni più belle quasi dimentichavo poi scrivete qua sotto nei commenti il video con... c'è la squadra con quale vorresti il video la prossima anche subito domani eh potete scrivere una squadra con cui fare il video domani io lo farò ok questa serie veramente voglio portarla... voglio veramente martellare su questa serie voglio portare... questa sarà la serie principale del canale ecco attenzione qui ok ci vediamo con le azioni più belle succhito bordeaux sarei portata fuori perfetto eccoci qui ci siamo azione bellissima ilicic pussando siamo qui gnonto gnonto angolo comunque ce la stiamo giocando alla pari praticamente questa difficoltà è quella giusta vediamo un po' che è il migliore negli angoli 68 dominguez che schifo mamma mia dominguez dalla bandierina ma daia però saltate non è finita attenzione dominguez sul bordiere bordeaux pericoloso paraduna non è finita madonna mia miracolo spazza oddio che sta succedendo oddio che sta succedendo occhio che parte la controffensiva qui occhio che parte la controffensiva ilicic attacca per desilvestri desilvestri lentissimo ilicicic si gira gnonto mamma mia dentro in che modo in che modo in che modo espulso bonifazzi cioè rivediamo il fallo ma quello sta andando in porta era finito il primo tempo io ho cercato di fermarlo ma cioè rosso non dico eccessivo perché ci vedeva pure sta però era finita cioè ha dato 0 di recupero siamo al 47esimo cavolo palla lì fine primo tempo niente 2 tiri a 3 la partita era anche abbastanza equilibrata ora devo non ho difensore in panchina il problema ho solo questa gente che col Bologna non c'entra niente quindi devo attaccarmi alla la mazza vabbè ci vediamo con le migliori azioni del secondo tempo calcio di punizione steso dai silvestri a lui però non lo cacci è arbitro bravo stiamo andando al limite dell'aria è stato falciato sì no 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 non lo tiro sì il cicci mamma mia che schifo nionto domingues ci arriva no non era era uscita mi sa sì soriano in campo aperto soriano parata ilicic rete rete con l'uomo in meno ilicic lo sapevo lo sapevo che segnava lui cavolo rivediamo il logo del bologna sembra quello di alfa romeo a me mi ricordo da quello poi soriano ruba palla in campo aperto tiro parata e lì ci temporeggia la piazza all'angolino opposto nulla da fare con il portiere è 1 a 0 occhio al bordo pericoloso la valla messa dentro palo che culo che culo abbiamo avuto comunque negli ultimi minuti sta attaccando la squadra francese noi ci stiamo difendendo con niondo che sta proteggendo parecchi palloni attenzione lì questo è gol non ci vogliamo fa nulla stiamo giocando un difensore in meno anzi per gli ultimi minuti per non subire il gol del 2-1 arredo torbi vabbè buona azione Dominguez ruba da palla questa Bologna però mi ha dimostrato qualcosa di speciale una squadra che mi sta piacendo veramente tanto giocare vedo che i giocatori comunque sono molto forti dentro a dirati come finirà sono riusciti a stare in vantaggio per un cioè praticamente abbiamo giocato il secondo tempo in 10 siamo riusciti comunque a stare in vantaggio a giocare più o meno alla pari escludendo questo brutto finale che stiamo facendo comunque abbiamo questa Bologna è una squadra che mi piace veramente tanto vai vai niondo troppo accentrato ti sei troppo accentrato ci siamo ancora noi gli ultimi minuti di tensione pura e questo è fallo fallo no è rimesso la reale no non c'era niente vabbè dominguez ilicic rete rete all'ultimo 2 a 1 mamma mia sta squadra mamma mia mamma mia doppietta di ilicic golaso mamma mia mamma mia che bella questa esultanza mamma mia che cosa abbiamo fatto a te saluto in 10 per tutto il secondo tempo sono riusciti a fare 2 gol troppo forti troppo forti questa serie è mitica veramente supportatela iscrivetevi al canale attivate la campanellina mettete mi piace al video e iscrivetevi qua sotto alla squadra che ti fate così per fare il prossimo episodio che incredibile incredibile l'arbitro appunto ha fiscato abbiamo vinto in modo rocambolesco molto molto bene in questa serie siamo a 2 vittorie su 2 dato che anche con la juve abbiamo vinto queste sono le pagelle insufficienti molti il mio conto a me è piaciuto sinceramente al gioco no molti giocatori comunque no buoni falsi ok se fate spend vabbè ed è da questa schermata che vi saluto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina e iscrivetevi qua sotto alla squadra che volete ah e seguitemi anche su twitter link in descrizione e ciao a tutti ci vediamo al prossimo episodio di questa serie che molto probabilmente sarà domani ciao a tutti